Allora, i giornali e le televisioni ancora parlano, dopo due giorni, ancora di sto porco, coi baffi, sto zossone schifoso, che la ragazza va con... possa tranquilla e andare a fare un colloquio di lavoro che c'è il rischio che questo la guarda dal bagno mentre fa più vita, offre pure il bicchiere d'acqua, arriva e andare a fare più vita, attenzione, capito? Bella sta cosa, eh? Andate a guardare lo schifo. Comunque, il fatto è questo, l'hanno gonfiato del botte oggi, gli hanno sfornato i vetri, sono dovuti intervenire i carabinieri lì a pianura e gli hanno pure scritto sulla seranda una cosa, il macello. Impiccatelo. Impiccatelo gli hanno scritto lì a... a Napoli, no? Giusto? Sì, Napoli, Napoli. A Napoli. Così è andata. Comunque, veramente, ragazze, state attenti a sta gente, parate a fare i colloqui, segnalate, chiamate, strisciate la notizia, le tiene, segnalate questa gente che non bene esiste, sti zossoni, la mignotte, porci. Grazie. Grazie. Grazie.